He lost my car Molto gentili eh si comincia Veramente da dio Modrollo eh Aspettate Oh sui E' qua E' loocio sui Ma sei vivo sui? Ok andiamo Cosa abbiamo qua? Una bella salita Oh le E qui cos'è sui? Si può andare al massimo? Si Andiamo Ok ok Oh mio dio Facciamo attenzione qui Ok ci siamo Paleoliche E io lo sapevo che mi trollava la prima paleolica eh Non è valido Respawniamo Ok Ce l'hanno fatta gli altri? Regà io non devo guardare dietro quando ci sono i paleoliche Ve lo dico Lascia il check Momenti ideali Sì Momenti ideali Sì Momenti ideali Ora 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 Stavo quasi rimanendo Va 2000 Regà andava troppo veloce eh Quella paleolica Oh mio dio Ok Oh mio dio Drift eh Momenti ideali Frena Frena Ok Questa va velocissima Vedete? Ok Frena No 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 Sono vivo Sono vivo Sono vivo Aspettate eh Prendiamo solo un po' di rincorsa Sono ancora vivo Reggiriamoci Ok Momenti ideali Adesso Adesso No No regà io volevo frenare Vi giuro Volevo frenare Volevo frenare Colpa mia Colpa mia Questa è la vita delle paleoliche E della neve Ok A parte che non frena Sono vivo Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Regà Cosa ho combinato? Adesso non mi trollo più dopo sto trick eh Ok Veloce Frena Veloce Oh mio dio Qua Qua va lenta Questa è super lenta Ok Oh mio dio Cos'è qui? Guardate che spettacolo Ma guardate che spettacolo Pure il trattorino innevato Spettacolare Questa parte Bellissima Ok Andiamo Poi io amo questi tubicini qua E me trollano pure Comunque Veramente Parcurito Fantastico eh Qua ci sono pure i regali Sotto l'albero di Natale I regali del Suinos Ok Eh sapete che non è facile eh Facciamo così Anticipiamo ora Però se anticipo troppo Vedete casca Perché non c'ha un buon contrapeso Il trattore Quindi dobbiamo trovare La traiettoria ideale Per questo trattorino Così potrebbe andare bene Però Esco troppo largo E lo sapevo io Se riesco a tornare indietro Forse ce la possiamo fare eh Così va bene Sì sì Perfetto C'è un altro livello eh Facciamo attenzione Ok Sali 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 Andiamo un po' indietro Oh mio dio Oh mio dio Cosa è successo raga Cosa è successo Perché si è buttato da solo il suino Non lo so raga A un certo punto ha cominciato a correre Ma io non ho fatto nada Ah sta arrivando qualcuno Andiamo Ma qui devo saltare No 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 Saliamo su Qui devo saltare Sì Credo che ce la fa lo stesso Anche senza saltare eh Vediamo Sì sì Non c'è bisogno Ok Si può passare di lato Sì che si può passare di lato Perfetto Corri sui Al massimo Salta Ok Ah guardate In questo cartello C'è scritto Lo Santos 2020 E cosa dovrebbe succedere Allo Santos nel 2020 L'invasione aliena Uscirà nel 2020 Un altro aggiornamento Non lo so raga Comunque Dovrà succedere qualcosa Nel 2020 Su GTA Perché questo cartello Vedete È strano Anzi Si vede lo Santos Proprio invasa qua Oh mio dio Andiamo E qui bisogna respawnare Speriamo che c'è il check su eh Ok Ok Andiamo Siamo a 5 minuti di parkurito Quanto manca alla fine? Pochissimi check Siamo andati proprio veloci In questo parkurito eh Salta sui Ok Qui abbiamo un altro bel checkpoint E qui equilibrio Facciamo molta attenzione Ok Un po' più veloci Perfetto Giriamo Olè Dobbiamo fare Veramente attenzione Perché Il contrapeso Funziona Però è un po' Complicato Con la space docker Io ve l'avevo detto Basta un minimo E poi caschiamo giù Ok ok Adesso ce la facciamo eh State tranquilli Andiamo Stiamo andando pure un po' spediti eh Io vado per di qua Ok Tagli sui Bello veloce Ancora più veloci Qui dobbiamo girare Ancora non è finita Ok Andiamo E lì cos'è Meglio che non guardo Finiamo prima Questa parte Regà io Io non lo so eh Io non posso sbagliare così alla fine Gli altri dove stanno Ancora trollati là Vedete lì c'è una space docker Che sta ferma Non so cosa sta facendo Sti qui Asui Non lo so regà Noi Proseguiamo Per il nostro parkurito Che è già la seconda volta È in pausa Al suinus Andiamo Regà adesso Andiamo belli veloci Oh mio dio Cos'è successo Regà No 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 Sui non mi casca Non mi casca Stavo a scherzare No 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 regà C'è una ruota giù eh Ok Andiamo Perfetto così Aspettate eh Questo è l'ultimo livello Se non mi sbaglio Credo di sì Ma credo C'è una mica rampa Secondo voi si può concludere In bellezza Con qualche trick eh C'è il freno Aspettate Non c'è freno Ok 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 Respawniamo Allora Siccome siamo belli i primeri Ci possiamo permettere Di fare qualche cavolata No Aspettate Proviamo un 360 È possibile però Non è il caso Possiamo provare A fare un flip flop Anche doppio eh Ok La misura è questa qui Ok Prendiamo la rincorsa da qua Proviamo quello frontale Forse siamo leggermente Storti eh Eh sì Eravamo leggermente Storti Quindi aspettate Aspettate Un front flip È possibile Però dobbiamo essere Belli dritti Super giù qua Ok ok Credo così eh Anche il flip flop Deve essere dritto Leggermente a sinistra No 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 raga io ce la devo fare eh Finchè non ce la faccio Non concludo Mi dispiace Aspettate eh Quindi leggermente più A destra Che dite così Dobbiamo essere Perfetto Forse troppo a destra O forse è perfetto Mamma mia Che suinos Andiamoci a prendere Questa bella Primera posizione Natalizia Comunque sia Se vi è piaciuto Questo parkourito Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Subitemi su Instagram Saluti Sissuini Bella Sissuini Sissuini